Un cambio di passo nella comunicazione dei fondi europei e degli investimenti fondamentali per lo sviluppo e per la qualità della vita che da essi derivano. A questo hanno lavorato i partecipanti ai tre tavoli tematici dell'evento Creo Europa, nuovi modelli comunicativi per i fondi europei, organizzata nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze dall'autorità di gestione del programma operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale FESRA 2014-2020. La Toscana, con un miliardo e mezzo di euro di finanziamenti assegnati nel settennato 2014-2020, è un esempio virtuoso degli effetti positivi dei fondi europei, ha detto il Presidente Enrico Rossi nel suo saluto, annunciando entro la fine dell'anno un giro della Toscana per valutare l'attuazione di 100 progetti finanziati dall'Unione Europea e il loro impatto sulla qualità della vita dei cittadini toscani. In tutti i territori della Toscana cercherò di puntare un faro su un caso, su un progetto, su un'azienda, su un'opera pubblica che oggi funziona grazie ai fondi europei. Pensiamo ad esempio alla tramvia di Firenze. Senza i fondi strutturali questa fondamentale infrastruttura, questa cura del ferro con grande risparmio di CO2 e di altre emissioni inquinanti, che ha garantito diritto alla mobilità, non ci sarebbe stata senza i fondi europei e senza la decisione di allocare i fondi europei sulla tramvia. Tre i temi dei tavoli tematici, aumentare la comunicazione del Feser nella comunicazione istituzionale e con i media, rafforzare la comunicazione interna per divulgare più efficacemente all'esterno i fondi europei e come i beneficiari dei fondi possono diventare protagonisti nella comunicazione. Noi percepiamo il bisogno di arrivare in modo più diretto, più semplice e più trasparente ai cittadini per far comprendere quali siano i risultati degli interventi pubblici finanziati con i fondi europei e in particolare per questa giornata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. I rappresentanti delle istituzioni, i comunicatori, gli imprenditori e giornalisti coinvolti nei tre temi, ribattezzati sfide, si sono confrontati nel corso dell'Innovation Camp con un metodo collaborativo usato anche dalle istituzioni europee e hanno spiegato su pannelli esplicativi le loro proposte comunicative a fronte dei dati di Eurobarometro, per cui più della metà dei cittadini non sa che gran parte delle infrastrutture e dei servizi che utilizzano sono frutto dei diversi fondi europei. Ma l'input europeo è molto di più di solo finanziamento, c'è la condivisione di expertise, c'è l'approccio strategico, l'approccio programmato, i cronoprogrammi che sono là non per creare problemi, sono là non per ragioni burocratici, anche se qualche volta si sembrano essere un po' troppo burocratici, ma sono là per aiutare di rimanere sulla linea giusta.